Eccorgo, ma intagor, con genie, ma me lo muori E scintari bussuno, c'è cappecindoclori, c'è cappecindoclori, c'è cappecindoclori Eccorgo, e scintari bussuno, c'è cappecindoclori, 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 c Pa, Pa, Pa Pa, Pa Pa all'alloggiacke va pa all'alloggiacke va pa all'alloggiacke va pa Urate durante 과ai ripetati, risitten realora!!! Iritten realora!!!!! Urate durante Thy passati che pare danno di cammincio risitten realora risitten realora mano Dio muore ciu scopi shudgihi che ti ha detto di... Irte nì ora! Re, cipna! Cipna, irte nì ora! Si. Vamo! Sipna, te vadojos, irte nì ora! Florì! Sapolo di cambi chiam la mia zimmo! Ma che non va? Irte nì ora! Che c'è di fanno? Ma io? Voi è sora! O che vuole? O che vuole? Hai una cosa che vuole? Non posso andare. È giocato le caffè. Poi che vuole un'altra parte, perché abbiamo anche i due giorni. E' ora. E' ora! Nacatevi un giurizzo? Ooi! E' ferito calo! Gia' ti? D'algoo metà s'accio! Ha? E' ca'm' alla onera i giovani di n'i mera! Ha? Aspartami! Ma'n t'am poulalis? C'an di dica'am! Aio! E' fantastica tu'n'acatevaenni C'e'n avurona tu sei'nò 3 stonus asvesti N'a me'n prolavi' a prima'nà! E'cata'laves? Ooi! E'm pirazi! L'amne fiasi n'a scefto' aferto! E'amma! M'ah! C' Mister! Nαι! E'e' me! E'n àrt' ova! A' marzao p E n' i gho Examina i d кого? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grapi la mia ragione. La ragione? Che cosa è? C'è chi è? C'è chi è? E' un po' meno chiuso? Sì, non lo so. La ragione di più, non lo so. E la ragione che è una ragione di tre volte... ...ma mia ragione? La ragione di rimuere la nuova. Sì, non so. La ragione di 10 milioni... ...ma me viene in questo po' da. La ragione di più! Guardate! Guardate! Charrula! Charrula! E'la, exo fu se d'èlora! S'a zutato a la mia, mamma! E'n'a me piai'o pedadro ci'n'a su t'a avc'allo trichan trichan! E'la, d'agra! N'a' muo thèles, palè! N'a' mi ne parare i fani tui ruizu, ci'n'a peixe n'a' tu a' arfalito pu' ti'n bina. Ma' pa'i sei su. Ma' ne su una lonti n'a muo la l'es. A'fu' ne si razzu! Non mi posso fare qui 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 mi sono? Perché? Si è un tipo di stai, io ho scocci. Allora, come se ne me ha gesta mandata. No, che mi sono? Ho hanno l'espo di nero di Chocura. Ma te ne. Cosa? Ho sentito il mano che il mio mister Kondou Mouktari, che mi sono? Che? Ho sentito il mauro e il giro. Ho sentito il mio amore. Ho sentito il mio amore. Ho sentito. E, è che ora sono i tassi che fai. Ma ma non è che il giamano. Ma hai, mi stai già fu il tuo giri su? Ma non è che siano una gire a fare l'acqua? Ma ma... I am! È che il giamano? Lo faccio! Perché io sono il giamano che a me. Ma ma... Si nonisce un poigno da me, ma cuida è l'acqua! E' il giallo! Grazie a tutti. 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 No, 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 no! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.